Quali sono i vantaggi nell'utilizzo di un treppiede? Quando è che ci conviene utilizzarne uno e quando invece non è il caso? Oggi vado a rispondere a questa domanda che mi avete fatto in tanti. In più vi faccio vedere questo treppiede che mi è stato mandato da Sirui se quello che vi preoccupa è la stabilità, questa è la soluzione a tutti i vostri problemi. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare, mi occupo di fotografia e video e quindi di treppiedi ne ho utilizzati in vita mia. Oggi vado a spiegarvi quando secondo me è il caso di utilizzarne uno e quando invece possiamo, anzi dobbiamo farne a meno. Contestualmente vi farò vedere quali sono le caratteristiche che secondo me sono premianti in un treppiede e andremo a vedere in particolare questo treppiede che mi è stato mandato, quindi questo è un video collaborazione. Devo dire ragazzi che qui abbiamo a che fare con un prodotto le cui finiture mi hanno sorpreso, un prodotto abbastanza pesante ma incredibilmente solido e quindi se state cercando una soluzione treppiede assolutamente inattaccabile questa potrebbe essere quella che fa per voi. Prima di cominciare io vi invito come sempre a iscrivervi al canale in maniera tale da rimanere sempre aggiornati per quanto riguarda recensioni di strumentazione, foto e video. Parleremo anche di tecnica fotografica e andremo anche a rivedere alcuni dei vostri scatti che mi inviate per una revisione. Intanto io vado a riagganciare la macchina, quindi avete visto come è pratico l'utilizzo. Dunque, quando è che utilizziamo un treppiede? Per quale motivo dovremmo fare lo sforzo di portarci dietro una strumentazione comunque ingombrante? A mio modo di vedere il treppiede è un valido ausilio in due casi. Quando vogliamo giocare con i tempi, quindi nel caso in cui vogliamo aumentare i tempi di posa, e questo può esserci molto utile nel momento in cui c'è poca luce per esempio, quando c'è poca luce noi possiamo utilizzare un treppiede per gestire i tempi di scatto a nostro piacimento. Laddove invece a mano libera siamo costretti a fermarci a un certo punto, non possiamo dilatare i tempi oltre diciamo il cinquantesimo di secondo, poi dipende dall'ottica, però indicativamente dopo il cinquantesimo di secondo siamo costantemente a rischio mosso. Quindi il cavalletto da un lato ci permette di giocare con i tempi, dall'altro ci garantisce una stabilità che comunque a mano libera non avremmo mai, nemmeno scattando con tempi più rapidi. Ci permette anche di essere più precisi. Nel momento in cui io compongo la mia foto con uno strumento di questo tipo, io posso andare, sbloccando l'apposito fermo, posso andare a posizionare la mia macchina esattamente come la voglio e ribloccarla. Posso andare a regolare lo zoom esattamente come lo voglio e se la mia ottica me lo consente posso bloccare anche quello. Dopodiché posso andare a mettere a fuoco in maniera precisa e scattare la mia fotografia con una precisione totale che difficilmente avrei a mano libera e soprattutto posso replicare la cosa. Un trepiede come questo non si muove, se abbiamo bloccato tutti i fermi non lo muoviamo più neanche se gli diamo dei calci. Quindi possiamo tranquillamente operare la macchina, cambiare i parametri e quindi questo è molto utile se vogliamo fare un focus stacking, se vogliamo fare un bracketing a mano. Sono tutti contesti in cui può essere molto utile avere un trepiede di stabilità eccezionale come questo. Se vogliamo fare macro, quindi stiamo facendo focus stacking con la macro, magari anche mettendo una rotaia agganciata qui sulla slitta, perché no? Sono tutti casi in cui avere un trepiede può essere estremamente utile. Un altro caso in cui un trepiede ci salva la vita è quando facciamo video. Perché sembra una stupidata, ma una semplice carrellata come questa è a mano libera, facciamo molta fatica a farla. Invece con l'ausilio di uno strumento di questo tipo vedete come sono morbidi i movimenti, perché è fatto apposta e oltretutto è regolabile. Quindi io gli posso dire se voglio dei movimenti più fluidi oppure con una velocità diversa. Quindi posso gestirmela sempre io a mano la velocità, però posso dirgli se voglio incontrare più o meno resistenza e quindi posso andare a fare delle carrellate più rapide o delle carrellate più morbide. E questo per fare video è un ausilio incredibile, senza contare che come detto io posso bloccare tutti i fermi in maniera tale da fare il classico video intervista come quello che sto facendo io adesso banalmente. Quindi posso inchiodare la macchina sul mio soggetto e non si muove più. Abbiamo parlato dei vantaggi, ma adesso andiamo a vedere qualche svantaggio. Allora, il peso di questo trepiede, tiro su, vedete? Si riesce a maneggiare sicuramente, però non è certo leggero. È uno strumento di un certo peso. Non è facile da portare in giro, anche se devo dire che in questo caso viene con la sua borsa da trasporto. Lo sapete che io mi emoziono sempre quando ci sono gli accessori. È la borsa, è uno dei miei accessori preferiti. C'è la sua borsa da trasporto in cui possiamo riporlo e non è neanche così scomodo da portare in giro. Però certamente non è una cosa che ci portiamo in spalla quando andiamo a fare una gita. Questo è uno strumento professionale che serve per dei contesti specifici in cui stiamo veramente solo lavorando. Per dei contesti di svago ci sono sicuramente delle soluzioni più piccole come potrebbe essere il monopiede sempre di Sirui, di cui però vi parlerò in un altro contenuto. Come dicevo, questo è uno strumento professionale, quindi abbastanza pesante. E questo ovviamente è il primo contro nel momento in cui noi dobbiamo decidere se destinare dello spazio nella nostra auto, neanche nello zaino, perché questa è una cosa che mettiamo in auto nel bagagliaio, è troppo grosso, in uno zaino non ci sta. Questo è il primo grosso contro. Chiaramente se dobbiamo essere agili non possiamo utilizzare un treppiede, quindi non è il contesto giusto in cui utilizzarlo. Un contesto come può essere, che so io, un matrimonio, possiamo pensare di utilizzare uno strumento come questo per fare le foto posate e averle tutte uguali. Un grandissimo ausilio durante i matrimoni, quando facciamo la foto di gruppo dove ci sono tutti, un treppiede come questo ci permette di fare diversi scatti della stessa scena avendola esattamente precisa, uguale. Quindi se qualcuno è venuto con gli occhi chiusi o mosso o con una mano davanti alla faccia, possiamo andare nella stessa inquadratura a selezionare le facce delle persone e andare a fare un collage in Photoshop in maniera tale da avere tutti gli invitati perfetti. Però durante il grosso della cerimonia capite bene che non possiamo andare in giro così. Dobbiamo essere agili, avere possibilmente più di una macchina, quindi non è il caso di utilizzare uno strumento come questo. C'è il tempo in cui utilizzarlo e il tempo in cui invece è meglio di no, chiaramente. Per quanto riguarda i contro io ne identifico solo un altro, ovvero ho riscontrato che in diverse situazioni il treppiede non te lo fanno usare. Quindi sto pensando per esempio a fotografia di interni, magari in residenze storiche, piuttosto che musei, piuttosto che eventi. Spesso, molto spesso ti dicono che uno strumento di questo tipo non te lo fanno usare, quindi non lo puoi tirare fuori. Questo lo metto nei contro, anche se in realtà è un problema di chi organizza, non tanto dello strumento. Lo strumento sì potrebbe creare intralcio e quindi in certi contesti è meglio chiaramente non usarlo, però potrebbe comunque essere un valido ausilio in quei contesti, semplicemente non ce lo fanno usare. Ora vi segnalo che su questo treppiede in particolare una delle caratteristiche che ho trovato maggiormente premianti è il sistema degli snodi delle gambe. Ora, come noi tutti sappiamo, i treppiedi hanno delle gambe che si allungano e si estendono in questo caso funziona esattamente allo stesso modo, quindi noi abbiamo dei fermi a vite, io adesso vado a girare questi fermi a vite e vedete che lui comincia a provare a scendere perché io l'ho tirato su. Quindi io adesso ho smontato, ho svitato i suoi fermi e quindi io posso abbassarlo. Questa è una cosa abbastanza normale, lasciare che un treppiede si abbassi da solo è una cosa assolutamente normale. La cosa che ho trovato molto ben fatta di questo treppiede è che io posso anche alzarlo e le gambe seguono il movimento che io sto facendo fare alla mia macchina. Quindi vedete, le gambe in questo momento sono sempre posizionate in terra, io adesso posso andare a chiudere, vado a chiudere tutte e tre le mie gambe e lui rimane esattamente dove io lo metto. Questa è forse la cosa che mi è piaciuta di più perché capite che in questa maniera io posso, gestendo la macchina banalmente, tirando su la macchina, posso posizionarmi esattamente dove voglio guardando il mio display, dopodiché blocco le gambe e sono in posizione. E questo è molto bello, questo è l'unico treppiede di tutti quelli che ho provato che mi permette di fare questa cosa. Probabilmente ha un sistema di pesetti alla fine dei piedini che consente ai piedini di rimanere giù e quindi nel momento in cui io tiro su tenendolo da sopra le gambe si sfilano da sole rimanendo con i piedini piantati in terra e quindi io quando lo chiudo lui è in posizione così come io lo metto. C'è anche la bolla ovviamente con cui posso metterlo in bolla bene. Adesso come vedete l'ho chiuso tutto storto perché sono seduto e non è la posizione adatta. Alla stessa maniera io posso risvitarlo. Ne approfitto per farvi vedere anche che qui c'è una maniglia dentro alla quale c'è la sua brugola che rimane dentro a calamita. Queste sono piccole chicche che a me piacciono sempre. Come dicevo posso andare a risvitarlo e lo accompagno gentilmente a scendere quando arrivo nella posizione desiderata di nuovo vado a bloccargli le gambe e lui rimane esattamente nella posizione in cui l'abbiamo messo. Guardate che roba ho anche beccato la bolla così senza neanche guardare. Insomma uno strumento dall'indubbia praticità una volta montato devo anche dire che il montaggio non è per niente difficoltoso perché la cosa che facciamo è che andiamo a montare le due maniglie quindi queste sono le due maniglie che poi servono per operarlo sono orientabili quindi possiamo averle verso l'alto o verso il basso ovviamente qui ognuno ha la sua scuola ma io le metto pari non le metto sfasate quindi le metto esattamente pari in maniera tale che ecco fatto le metto pari in maniera tale che poi si opera con le due mani alla stessa maniera si possono anche mettere sfasate se uno lo gradisce ma ora parliamo un po' anche dell'estremità inferiore l'estremità inferiore ha un blocco come potete vedere quindi io questo posso girarlo e lui non si muove più quindi va a stabilizzarmi ulteriormente i piedi dopodiché io posso svitarlo e a questo punto i miei piedi possono tornare a chiudersi una cosa che ho trovato molto interessante e che magari molti si stanno chiedendo come sono i piedini i piedini sono queste piazzole di gomma che noi possiamo posizionare a terra ma hanno un qualcosa di interessante perché io posso andare a rimuovere quest'anello un po' duro ma come vedete via in via e qui abbiamo un piedino con due punte che può essere utilizzato per scopi prevalentemente outdoor secondo me quindi se siamo nella natura e un piedino di gomma come questo questo va bene su un pavimento se siamo in interni se siamo in un contesto civilizzato questo è il piedino da utilizzare se siamo in un contesto naturale roccia, prato piuttosto che qualsiasi altra superficie non lineare con queste punte andiamo a conficcarci in terra e non si muove più dopodiché io vado a rimettergli il suo piedino di gomma ecco fatto e lui torna in posizione ed è di nuovo pronto a lavorare vediamo se riesco a farvi vedere tutto il bestione e non ci sta ragazzi come vedete non ci sta è abbastanza grosso non ve lo nego è abbastanza grosso si tiene tranquillamente non è che sia una cosa insostenibile però devo dire come dimensioni e qualità è decisamente il treppiede più bello che io ho a disposizione in questo momento quindi sono molto grato a Sirui per questa collaborazione nei prossimi capitoli vi porterò sul set di qualche lavoro per farvi vedere il risultato che viene fuori dall'utilizzo di un treppiede come questo perché devo dire io di video ne sto facendo tanti e sono anche un po' impaziente di testare un prodotto come questo che sicuramente mi fa fare un passo avanti rispetto alla strumentazione che ho utilizzato fino a ora una piccola precisazione se qualcuno se lo stesse chiedendo questo è un treppiede pensato prevalentemente per video e quindi la sua staffa mi permette di tenere la videocamera orizzontale ma se noi volessimo metterla in verticale possiamo tranquillamente dotarci di una staffa AL e con una staffa AL come quella che vi ho già fatto vedere nel video in cui parlavo di Canon EOS R6 con una staffa AL noi possiamo semplicemente avvitare la nostra videocamera in verticale e quindi andiamo a realizzare tranquillamente tutti e due i formati a questo punto io direi se avete domande su questo prodotto fatemele qui sotto io andrò a rispondervi sia testualmente che con degli shorts verticali motivo per cui vi invito a iscrivervi così non ve li perdete io e Sirui vi diamo appuntamento come sempre al prossimo video ciao 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 ciao